Pentecoste di fuoco. 1 giugno 1974. Figli di Letti. Sono in mezzo a voi e vi riempio del mio spirito e dello spirito del Padre. Siano le ricchezze di questo spirito comunicate a voi affinché possiate divenire miei veri testimoni nel mondo. Vi è chi si professa testimone di Dio, ma svisa poi la verità o ne accetta solo ciò che gli fa comodo. La vostra testimonianza appoggi invece su un'adesione totale ad essa. Lo spirito di sapienza ed intelletto rischiari ogni giorno più la vostra intelligenza, e la vostra fede non subisca mutamenti, dubbi o tentennamenti. La roccia su cui siete poggiati e dovete costruire la vostra perfezione è la pietra angolare su cui ho edificato la chiesa. Sono lo stesso e chi è con me non può rimanere deluso. Vi arricchisco del dono della scienza, perché vediate le verità in una luce divina e possiate con facilità risalire dalla terra al cielo in tutte le cose. Lo spirito che vi guida vi darà forza in tutte le battaglie della vita e, consigliandovi il buono e il meglio, vi indirizzerà perché possiate compiere tutte quelle opere che la vostra vocazione e missione comportano. Sappiate corrispondere ed arricchitevi di amore di Dio e del prossimo. Fate che la vostra pietà cristiana diventi manifestazione di esso. Se amerete intensamente, non potrete essere privi del santo timore di offenderlo. Non sia però il vostro un timore dei suoi castighi e nemmeno un timore servile in vista della ricompensa. Il puro amore di Dio vi riempia l'anima in modo da desiderare solamente di compiere la sua volontà. Ripieni di Spirito Santo saprete capire le lingue. Perché i bisogni di tutti saranno per voi oggetto di interesse, di preoccupazione e di lavoro. E le saprete parlare le lingue, perché il linguaggio dell'amore è facilmente capito da tutti. Sia dunque una pentecoste di fuoco questa, contraria al fuoco che divampa nel mondo e alla violenza che l'insanguina. 12 uomini. Ripieni di Spirito Santo. Sconvolsero il mondo e portarono fra gli uomini un germe nuovo che doveva divenire albero grande. Siate anche voi mossi da un travolgente desiderio di santità per voi stessi e per tutti. E dalla forza travolgente che il vostro Dio vi dona nel diffondere il bene. Divenite nell'umile riconoscimento del vostro nulla, animato dal divino, come un atomo invisibile capace di sprigionare una grande energia. Vi benedico, figli. Sono Gesù di misericordia e di amore infinito.